Grande fermento a Borgo Tossignano dove l'associazionismo di volontariato ha promosso una raccolta di firme al fine di completare l'opera della sala polivalente ferma da anni per mancanza di fondi. Queste firme verranno utilizzate per rafforzare le richieste nei confronti di enti, associazioni, comunità europee al fine di reperire i fondi e completare l'opera. Noi abbiamo sentito la viva voce di Sandra Poggi, una cittadina di Borgo Tossignano che ha preso veramente molto a cuore questa situazione. Allora come potete vedere ci troviamo davanti alla sala polivalente di Borgo Tossignano adiacente alla biblioteca e quello che voglio rivolgere a tutti voi è un appello. Fino a poco tempo fa pensavo che fosse solo un sogno mio avere una sala Borgo, un teatro, un cinema per i ragazzi come avevamo un po' noi da piccoli. Poi parlando con tutte le associazioni di Borgo Tossignano ci siamo trovati a sognare tutti insieme e abbiamo deciso, visto che i lavori purtroppo sono fermi per tanti motivi, a chiedere, a partecipare a bandi di concorso, a chiedere a fondazioni. Ci siamo messi d'accordo e tutti insieme abbiamo pensato che per Borgo questo sforzo possiamo farlo. In che modo? Con una semplice firma. È quella che chiediamo anche a voi, tutti i cittadini di Borgo Tossignano, aderenti alle associazioni, ai gruppi di volontariato. Vi chiediamo proprio questo, di mettere la vostra firma perché più siamo e più avremo la possibilità di chiedere questi finanziamenti per finire la sala polivalente. A chi potrebbe servire la sala polivalente? Dai bambini fino agli anziani, pensiamo, non so, cinema pomedridiani, qualche film, cartoni animati senza dovere per forza uscire dal nostro paese, per i bimbi, delle belle tombole, qualche serata celebrativa delle nostre associazioni, un concerto di qualche gruppo che viene anche da fuori, oltre a quelli fantastici che organizza l'associazione musicale. Beh, insomma, le motivazioni ci sono. Allora, cosa vi chiediamo? Fate riferimento ai responsabili delle diverse associazioni che trovate nell'elenco anche della lettera che è arrivata a casa vostra in questo periodo, oppure venite qua in biblioteca perché Sergio è disponibile in tantissime parti della giornata e fate la vostra firma. Non vi chiediamo altro e speriamo tutti insieme di continuare a sognare. Dunque, può firmare solo chi ha 18 anni, chi è maggiorenne e non solo chi è cittadino borghigiano, ma anche chi è aderente alle associazioni di Borgo e magari è dei comuni limitrofi. Anche il 2 marzo ci troverete in piazza a Borgo per raccogliere le ultime firme. Perché tutta questa fretta? Non è una motivazione che trova riscontro nelle altre vicende della nazione, ma è proprio perché si chiudono i consigli di amministrazione di tante aziende, si chiudono bandi di concorsi nazionali e internazionali perché vorremmo andare anche magari, che ne so, a concorrere in Europa per questo nostro sogno. Quindi contiamo su di voi e tutti insieme siamo convinti ce la possiamo fare.